Questo è un biglietto. Questa è la musica. No, questo in realtà serve, qui sono dei numeri però anche ne sono per, vediamo a cosa servirà questo strumento strano. Piano piano, ecco, queste che cosa sono? Sono le bacchettine, cominciamo a tirarlo fuori. Ti aiuto eh Gaspari. È un'astronave in miniatura. Ce l'hai? Madonna che pesa, un orologio. No, è un'astronave. Uno, due. Aspetta Gaspari. È un UFO. Cos'è? Un UFO. Eh sì, infatti ho pensato a te, è una specie di UFO, qui potrebbero essere le luci dell'UFO. Mezzo e palle sotto. Eh. Che bello, è divertente. Hai visto? Mi piace. Che ne dici di questa piccola stranale? E poi adesso, visto che sei un muricista, imparerai la suonata. Ci sono due bacchette. Che magico. È magico. Probabilmente questi suoni puliscono l'energia e l'atmosfera. È certo. Questo sono due bacchette uguali? Sì, sono uguali e quando vuoi. No, no, però li puoi usare due alla volta. Vediamo. Va tenuto in qualche maniera. È scomodo. La musica è molto galattica. La forma pure. È bello. È bello. Lui è musicista, ragazzi. Può si divertirà come un uomo. Senti. E poi vedi? Poi lo metti con le dita. E ti metti sulle dita. Anche con le dita? Sì, a seconda di come vuoi. Puoi provare anche con questi. Prem, vi divertite? Anche Prem. Prem con la... Così Prem viene a iniziare a cantare. Prem viene a cantare. Per me è tutto così palese. È arrivato un altro alieno che mancava l'appello. Eh? Fa tanto caldo oggi. Ma tu non senti il caldo? Ho il sangue freddo, sì. Eh, appunto. Ormai... 102. 102. 102, Gaspare. Dove sono? Adesso... Marina! Marina! Vieni ad accendere! Aspetta che mi alleno. Ma... Ha tutto sconto. Ma deve scontare col fiato o con la mia tera cosa? Ha... Col fiato, col fiato, col fiato, col fiato. Col fiato. Dovevo dire con una barzelletta perché a te ti piacciono le barzellette? Anche io ce ne ho una bella. Dimmela. Allora... È uno che entra in un bar e c'è in mano un omettino alto 20 centimetri. E gli parla insieme, proporzionatissimo tutto. Pipiri, una voce così. Il cameriere vede entrare, guarda strabiliato. Ma cos'è un buon giocato? Questo si siede, lo mette sul tavolo, prende dalla tasca una sedia costruita apposta per lui, piccola, la mette sul tavolo, questo si siede comodo. Il cameriere guarda strabiliato. E questo qui fa. Il cameriere, un vermute delle patatine. Subito, signore, le porta il vermute. Vede che tira fuori un contagocce, prende una voce di vermute, le mette in bocca a questo qui alto 20 centimetri. Buono, che buono, che buono! Poi si briciola una patatina, prende una briciolina, gli riembra... Ma che buono, che buono! Il cameriere non lo sa più. Ma cos'è? Ma scusi signore, ma... Ma è un uomo? Ma certo che non è. Ma è alto 20 centimetri? Eh sì. Ma è sempre stato così? Ma no! Prima era come noi. Ah era come... Ma cosa gli è successo per diventare così? Chi l'ha conciato così? In che posto è stato per essere conciato così? Guardi fa, è stato in un posto... Orcoccagna, non mi ricordo mai il nome di quel posto. Lui lo sa, lo chiedo lui. C'è vicino Lomettino e dice... Te, Giovannino qua! Come si chiama quel posto in Africa? Dove avevi mandato a baffancurlo lo stregone? Capito? 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 Allora... Pronti? Gaspare? Allora... Ma voi che avete le macchine fotografie professionali... Una foto professionale? Quante? Quante sono? No, di qua devi venire. Uno, zero, due. I numeri sono... Vedi uno, zero e due. E le candeline quante sono? Tre. Va bene. Mufiato solo? Mufiato solo? Auguri! Grazie! Ma hai fatto il desiderio? Il desiderio l'hai espresso? Il desiderio è quello. Dovrei pensare all'umanità, alla felicità della terra. Sono molto più ristretto. Vorrei che tutti questi presenti fossero sempre felici e amici miei. Poi... Arriverà anche la quinta dimensione. Vorrei che tutti voi... Grazie, grazie. È un po' egoico, no? Perché è un po' ristretto. Non ha una grande visuale. Grazie! Grazie, Gaspare! Manca Prem! Prem è! Vieni, Prem! Vieni, Prem! Vieni, Prem! Ce la fai, Prem? Ti posso aiutare? No, adesso no, grazie. Ah, ok. Sì, sì. Brava! Ecco. Però non vedo niente. Però se mi dai la mano ti porto. Dove sei? Qui. Vieni, Prem. Grazie. Vieni, Gai. Grazie. Ecco, vieni, vieni. È arrivato. È arrivato. È arrivato. È arrivato. È arrivato. Gaspare! 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 Se dopo 102 anni non ti sei ancora stancato di lei, qui c'è Prem. Prem, hai visto? Permette della lama. Certo! Non puoi corteggiare adesso, eh? Tieni, Prem. No, va bene. Siediti, prendi la sede. Ecco, portiamo la sede. Siediti. Qui, aspetta. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Ecco, sediti, girati un po'. Lì. Perfetto. Siediti. No, no. E' serenita. Ecco. Una feta a Rerroni. Ma ti preoccupare che io mangio la buona te. Te pensa, te pensa. E goditi questa cioccolata. Grazie.